L'hanno chiamata Norma Salvastadio della Roma, ma in realtà la posta in palio è molto più alta perché di fatto l'esecutivo ha riaperto al grande business della speculazione sugli impianti sportivi con la nuova legge sugli stati, che potrebbe diventare un cavallo di troia per imponenti colate di cemento, anche senza vincoli residenziali, in deroga ai piani regolatori. Perché il divieto esplicito per cui i renziani si erano battuti estrenuamente nel 2013, quando erano ancora forza di minoranza del governo di centrosinistra, è stato ora cancellato dal ministro dello sport Luca Lotti, che ha già messo la firma sull'articolo 62 della manovrina di primavera. Prima la legge non prevedeva nessun altro intervento, se non quelli strettamente necessari, definizione che aveva già prestato il fianco a interpretazioni alquanto discutibili. Ora può ricomprendere praticamente tutto. Con la scusa di un nuovo impianto sportivo, neanche troppo grande, si parla di 20.000 posti di capienza minima, le società potranno alzare condomini e palazzine, senza nemmeno il bisogno di una vera e propria variante urbanistica. Dal ministero spiegano che la decisione finale spetterà sempre ai consigli comunali, ma di fatto i piani regolatori potranno essere superati semplicemente con il parere positivo della conferenza dei servizi. Nel frattempo è sparito anche il vincolo sul residenziale. Si tratta a tutti gli effetti di un colpo di mano. A sorpresa, peraltro. Perché nella finanziaria BIS, licenziata dal Consiglio dei Ministri prima di Pasqua, era atteso un capitolo dedicato agli investimenti sportivi, dove inserire la tanto attesa garanzia da 97 milioni di euro per la Ryder Cup e alcune misure per i mondiali di sci di cortina. Ma nessuno si aspettava che spuntasse dal nulla anche un articolo dedicato alla costruzione di impianti sportivi.